perché il cinema era grande all'epoca in cui tu da giovanotto venisti a roma e scopristi che in realtà era un cinema gestito dai romani che gelosamente se lo trattenevano e a voi veneti vi gridevano magari anche con un minimo di spocchia rispondi hai un microfono lì è molto semplice che la mia generazione aveva dietro le spalle un giardino immenso da coltivare avevamo vissuto il fascismo la caduta del fascismo la guerra con le sue bombe la guerra civile o partigiana che dir si voglia il dopo guerra la fame il miracolo economico il successo l'italia che si risveglia tante cose talmente tante che dal 48 dal 47 quando è rinato il cinema italiano i registi gli autori avevano a disposizione un materiale incredibile perché i film che si fanno in questi ultimi anni sono poveri direi quasi meschini raro che siano appena potabili perché che che le generazioni di questi autori che cosa hanno alle spalle la l'automobilina a 18 anni io andavo in bicicletta di seconda mano capito cioè hanno avuto tutto ma non hanno vissuto niente e questo pesa un autore deve avere delle esperienze diceva lui per di non selin se la vita non la vivi non la scrive intanto cominciamo a dire che il mio incontro con con Sergio Leone ha qualcosa di magico pensate risale a 54 anni fa roba da vergognarsi dio mio come sono diventato vecchio e mi venne a trovare molto umilmente pensando che forse avrei rifiutato per snobismo invece era un momento in cui io avevo bisogno di soldi perché mi ero giocato tutto quello che avevo al casino perché ero addolorato e quando io ero addolorato andavo a giocare come le sic avevo bisogno di soldi mi dice se volevo scrivere qui felice di scriverlo per qualche dollare in più e lì è cominciata la nostra collaborazione che poi è continuata con il buono il brutto il cattivo e poi con quello che vedrete questa sera Sergio Leone era ma allora io non l'avevo capito lo prendevamo un po' sotto gamba noi collaboratori invece era un grande regista talmente grande che un altro mio idolo amico Billy Wilder forse il più grande regista americano un giorno dopo aver visto il film c'era una volta in america ma ha detto sai il tuo amico leone è un grande regista e io tornai in italia perché lo volevo dire a Sergio ma non ho fatto in tempo mi aveva lasciato comunque era un grande regista che ha avuto anche la fortuna di incontrare nella sua carriera quell'altro meraviglioso artista che è Ennio Morricone perché perché Sergio Leone questo l'ho capito dopo aveva un senso lirico se voi ripensate ai suoi film anche a quello che vedrete questa sera la musica è importantissima oso dire lasciamo stare noi sceneggiatori che scriviamo quello che scriviamo ma i film di Sergio Leone sono al 50 per cento suoi e di Ennio Morricone perché nel mondo le musiche di Ennio Morricone fatte per Sergio Leone non sono meno importanti dei film di Sergio Leone ti ringrazio Luciano grazie di essere stati qui grazie a voi e adesso vediamo giù la testa grazie a tutti